Dopo la notizia sorprendente dello stop al film su Batgirl con protagonista Leslie Grace costato 90 milioni di dollari ma per il momento chiuso in uno scantinato, all'incontro con gli investitori del 4 agosto, il CEO di Warner Bros Discovery, nata ad aprile in seguito all'acquisizione di WarnerMedia da parte di AT&T, ha chiarito quali sono i progetti per il DC Extended Universe. L'azienda ha deciso di resettare il franchise ristrutturando il progetto con un obiettivo preciso. È stato messo insieme un team che si occuperà soltanto dei prodotti DC, a cui è affidato il compito di elaborare un piano a lungo termine di 10 anni. Senza troppi giri di parole, l'amministratore David Zaslav ha detto che si ispireranno a quanto fatto da Marvel e Disney con il Marvel Cinematic Universe. Il CEO di Warner Bros Discovery ha esposto come le intenzioni siano quelle di capitalizzare il successo avuto dai titoli dedicati a Batman, Superman, Wonder Woman e Aquaman, investendolo in progetti a lungo termine. Per fare questo però bisogna proteggere il brand DC. Per Zaslav la qualità ora è la parola chiave, questa volta si punterà sull'eccellenza, non si faranno uscire film se non ultimati a dovere. Per quanto riguarda i film DC attualmente in lavorazione, ovvero Black Adam, Shazam 2 e The Flash, Zaslav ha detto che sono ottimi, li ha visti e possono diventare ancora migliori. Anche sul fronte HBO Max ci saranno delle novità. La piattaforma di streaming di Warner Bros si fonderà con Discovery Plus entro l'estate del 2023. Confermato il taglio dei contenuti destinati ai bambini e alle famiglie, da qui ecco la decisione di bloccare anche il film animato su Scooby Doo, Scoob Holiday Haunt. Queste decisioni sono state prese in seguito all'analisi dei guadagni del primo trimestre della neonata Warner Bros Discovery. A causa anche del miliardo speso in ristrutturazione e investimenti per i contenuti sportivi, i ricavi sono calati dell'1% rispetto a un anno fa, che equivale ad una perdita netta di 3 miliardi di dollari. Ecco quindi motivato lo stop di Batgirl. Per David Zaslav fare uscire direttamente in streaming film molto costosi non ha molto senso a livello economico. Da qui la scelta di cambiare completamente strategia, affidata ad Alan Horn, consulente per quanto riguarda i prodotti cinematografici. Horn, a differenza di quanto deciso dal 2020 ad oggi, punta completamente sull'uscita cinematografica. Per lui è impensabile che si rinunci alla finestra di distribuzione, svalutando così il valore percepito dell'opera. Warner Bros Discovery punta ora a ricreare l'evento cinematografico e a incoraggiare il passaparola positivo del pubblico, facendolo arrivare in questo modo con maggiori aspettative anche al momento del rilascio in streaming. Probabilmente Christopher Nolan, passato da Warner Bros a Universal proprio per le decisioni distributive che non condivideva, in queste ore sta ridendo sfregandosi le mani. Voi invece cosa ne pensate? Come sempre fateci sapere la vostra nei commenti. Grazie a tutti.